L'ultimo pezzo che vogliono presentarvi, che vogliono presentarvi, Yellow Summering, è una canzone scritta da Paul McCartney con il brano opera Bambini e pubblicato nell'album Revolter dei Beatles nel 1966. Il sottomarino giallo simboleggia il distacco del mondo reale che i Beatles stavano vivendo a quel tempo a causa dell'album Revolter dei Beatles. Signore e Signore, ierro salto a me. La musica di Giordano, 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.